L'allerta meteo diramata nella giornata odierna colpisce anche il mondo dello sport. Infatti, nel pomeriggio, era prevista una partita amichevole al Tomaselli tra la Nice e la rappresentativa regionale Juniors Sicilia, gara che è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Era una buona prova per i biancoscudati per testare il loro stato di forma in vista della trasferta di domenica a Mazzara del Vallo, dove gli uomini di Alessio Sferrazza vogliono provare ad uscire dal campo con una vittoria per dimenticare la sconvitta casalinga contro il Profavara. A parte la vittoria Roboande contro il fanalino di Coda Parmonval, la Nissa, negli ultimi match casalinghi contro l'Akragas e appunto il Profavara, seppur non demeritando, è crollata nei minuti di recupero, sintomo che la squadra non riesce a rimanere in partita per 90 minuti e oltre, oppure solo tanta sfortuna. Intanto la Mazzarese si sta allenando duramente per affrontare i biancoscudati domenica al Nino Vaccara, che dopo il pareggio nel derby contro il Mazzara vogliono vincere questa partita per allungare in classifica nei confronti della Nissa e sperare in un posto per i playoff.